Ricostruire cambiamenti climatici studiando il ghiaccio è quello che sta cercando di fare il progetto ADA 270. Nei mesi scorsi un'equipe di esperti ha effettuato una serie di carotaggi sul ghiacciaio dell'Adamello, il più profondo d'Italia, fra i più grandi d'Europa. Sono stati estratti 225 metri di ghiaccio che rappresentano un grandioso archivio della storia ambientale ed umana delle Alpi. In questi giorni a Palazzo Pirelli a Milano, presenti gli ideatori del progetto, l'assessore al parco dell'Adamello Massimo Maugeri, sono stati presentati i risultati della prima fase. Nella seconda fase il progetto prevede lo studio e l'analisi dei dati contenuti nel ghiaccio. Il progetto, sostenuto da 16 partner tra istituzioni, privati e università, è stato coordinato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente. È stato finanziato da Regione Lombardia con l'obiettivo di ricostruire la storia climatica degli ultimi mille anni e mettere in atto politiche di contrasto al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è una delle emergenze più gravi che stiamo vivendo. Dobbiamo attivare politiche di mitigazione e di adattamento efficaci, ma per farlo dobbiamo capire cosa dipende dalla mano dell'uomo e cosa invece è già accaduto in passato quando il contributo antropico dell'uomo era più limitato e invece la natura con il suo corso faceva avvenire cambiamenti climatici come le glaciazioni che abbiamo conosciuto in passato. Questo studio non è solo uno studio scientifico, ma uno studio che ha lo scopo di darci elementi conoscitivi per poter agire concretamente con le politiche regionali. Il carotaggio è stato effettuato nel corso di 11 giorni in un campo base a 3200 metri di altitudine, 24 ore al giorno, su turni di 3 ore ciascuno e 6 ore di riposo, ad una temperatura di 24 gradi sotto lo zero durante la notte. I 300 spezzoni di ghiaccio da 70 cm di lunghezza e 80 mm di diametro si trovano ora nel deposito centrale dell'Euro Cold Lab dell'Università di Milano Bicocca. Ora questo libro di ghiaccio racconterà agli studiosi la sua storia grazie all'analisi che verranno effettuate dagli studiosi della Bicocca e del Politecnico di Milano. E questo, come detto, servirà a studiare anche le politiche ambientali da applicare nell'immediato futuro. Grazie.